Risco Group presenta Viewpoint, la rivoluzionaria soluzione per la verifica video. Con Viewpoint non vi è limite al numero di telecamere IP per interno e per esterno integrabili ai sistemi di sicurezza risco. Viewpoint offre un livello di sicurezza senza precedenti. Qualsiasi rilevatore o qualsiasi evento attiva la telecamera. Una sequenza di immagini viene inviata direttamente al tuo smartphone utilizzando l'app Airisco per verificare in tempo reale l'allarme in corso. Le immagini e la funzione video live attivabile via app permettono di riconoscere un tentativo di intrusione da un falso allarme. Viewpoint permette di richiedere lo streaming video delle telecamere direttamente sullo smartphone. Le telecamere IP possono essere installate ovunque permettendo agli utenti di monitorare e controllare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo la propria casa o l'ufficio. Numero illimitato di telecamere IP Attivate da qualsiasi tipo di evento Video streaming a richiesta Compatibile con i sistemi risco Visita il nostro sito o contatta il distributore risco di zona.